Oggi andiamo a vedere come si piantano i fiori Come prima cosa rimuoviamo queste piante E poi andiamo a lavorare un attimo il vaso Andiamo a lavorare in questo modo un attimo il terreno Perché ha bisogno di essere morbido per la pianta In modo tale da togliere tutte le radici Far arieggiare il terreno e rimuovere le piante infestanti E poi andiamo a prendere i fiori Bene, ora che abbiamo i fiori non possiamo metterli tutti così Li dobbiamo un attimo separare per distribuirli in modo omogeneo nel vaso Ecco in questo modo abbiamo già fatto una prima divisione Magari non così Compattiamo bene Perché le radici devono ancorarsi bene nel terreno E se è necessario, come in questo caso, andiamo a coprire con un po' di terra Sono andato ad aggiungere un ulteriore strato di terra E ora lo vado a espandere in questo modo E poi compattiamo sempre in modo delicato e deciso Questo è quello che si otterrà Grazie a tutti Grazie a tutti